Adeguamento sismico, piastra di emergenza, ospedale di comunità, casa di comunità e centrale operativa territoriale. L'asla di Salerno accoglie le richieste del comune di Eboli e mette in campo una operazione di restyling strutturale dell'ospedale cittadino Maria Santissima a Dolorata. Con i fondi PNRR viene finanziata la demolizione e la ricostruzione del vecchio fabbricato per far posto ad un ospedale di comunità, ad una casa di comunità e alla centrale operativa territoriale. Ma non è tutto. Accanto alla vecchia struttura sorgerà anche la nuova piastra dell'emergenza per la quale l'azienda sanitaria approva il progetto preliminare, così come viene approvato anche il progetto di adeguamento sismico dell'intero nosocomio ebolitano. Non solo, si accelera anche sui lavori per l'impiantistica per i quali viene approvata una variante, trasferendo per questi ultimi i fondi originariamente previsti per la demolizione e ricostruzione del vecchio fabbricato ad Acquarita, ora finanziata attraverso i fondi del PNRR. Circa 22 milioni di euro è l'ammontare delle opere previste, che renderanno l'ospedale di Eboli una struttura al passo con i tempi. Inoltre, sono già in corso i lavori per l'adeguamento delle quattro sale operatorie, con un importo di circa 4 milioni di euro, per le quali saranno comunque adeguati anche gli impianti, compresa la climatizzazione. Questi ultimi i lavori dovrebbero terminare entro il prossimo mese di ottobre. Mentre si lavora per la realizzazione dell'ospedale unico della Piana del Sele, si torna a parlare di riqualificazione e potenziamento del vecchio nosocomio ebolitano.